Nasce una nuova scuola, è il messaggio lanciato dall'Istituto di Istruzione Superiore da Vinci de Giorgio di Lanciano, che promette più scelte, più occupazione e più futuro. Il preside Gianni Orecchioni. Un momento molto importante per la nostra scuola, ma direi per tutto il territorio frentano, in quanto si potenzia in maniera molto marcata tutta la capacità formativa, l'offerta formativa che questa scuola è in grado di dare, perché accanto ai nostri indirizzi tradizionali abbiamo dall'anno scolastico 2012-2013 la possibilità di attivare altri quattro indirizzi, che sono chimica, materiali e biotecnologie, trasporti e logistica, informatica e telecomunicazioni per quello che riguarda l'istruzione tecnica e manutenzione e assistenza tecnica per quello che riguarda l'istruzione professionale. In maniera tale da creare veramente una grande filiera di istruzione tecnica professionale nel territorio, che si va ad aggiungere a quell'altra filiera che abbiamo realizzato quest'anno con le aziende, con l'istituzione dell'ITS, cioè un percorso di alta formazione tecnica, in cui le imprese meccaniche hanno fatto degli investimenti, mettendo il loro personale gratuitamente al servizio, diciamo, della formazione di questi ragazzi, insegnano per varie centinaia di ore a questi ragazzi gratuitamente, proprio perché hanno assolutamente bisogno di formare dei tecnici super qualificati. Noi ci siamo nella fondazione che si è costituita come scuola capofila, e quindi stiamo rinsaldando molto il rapporto con l'azienda e il mondo aziendale. Questa scuola, come dice il Miur nella sua campagna promozionale, è in grado di dare molta più possibilità di scelta, ma anche più futuro ai ragazzi, perché sono tutte scuole che danno delle possibilità occupazionali che altre scuole che magari maggiormente vengono seguite un po' per tradizione, un po' per una cultura locale che tende a privilegiare un sapere letterario, un sapere tecnico scientifico operativo, tende a fare. Noi abbiamo così un compito per il nostro territorio di rafforzare queste competenze che dovremmo andare a fornire potenziando i nostri laboratori e valorizzando quelle risorse umane che già operano all'interno della scuola come docenti e tecnici, sperando che possano dare ai nostri ragazzi nuove opportunità per il loro futuro. Le imprese chiedono sempre più tecnici specializzati. È un dato che riguarda la nazione in generale, si calcola che lo scorso anno sono stati 110.000 i tecnici che le imprese cercavano e che non sono riuscite a trovare nel mercato, ma riguarda anche molto il nostro territorio. Noi riteniamo qui dentro di avere già le competenze professionali, anche le risorse umane, i laboratori eccetera, per rispondere a questa grande aspettativa che viene dalla regione e dalla provincia nei nostri confronti. È un istituto che l'anno scorso è stato unificato, ha avuto un incremento di iscritti, attualmente ne abbiamo circa 1.000 iscritti e pensiamo di poter dare qualche servizio in più. Diciamo che è un istituto completo, perché c'è sia l'istruzione tecnica, l'istruzione professionale e quella liceale. Per quello che riguarda il liceo, come tradizione degli studi tecnici, c'era il liceo tecnologico, che oggi si chiama liceo delle scienze applicate.